Ben trovati con il TGLIS di Telebari. La Polizia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni da 12 milioni di euro nei confronti di 13 persone legate ai clan Parisi-Palermiti di Bari. L'attività rappresenta la prosecuzione dell'operazione Codice Interno che ha disvelato legami tra mafia e politica e con la quale lo scorso 26 febbraio sono state arrestate 130 persone. In totale le misure eseguite oggi sono 34 e i sequestri riguardano beni immobili, terreni e case, quote di società commerciali e di servizio, beni aziendali, conti correnti bancari e postali. Questi beni, sottolineano gli inquirenti, sono riconducibili alle attività delittuose del clan o comunque costituenti patrimoni di ingiustificata provenienza in sproporzione alle reali capacità reddituali da parte dei 13 indagati. E' stata avvertita anche sulle coste pugliesi la scossa di terremoto di magnitudo 5.5 avvenuta la scorsa notte nel nord-ovest del Montenegro. Segnalazioni sono arrivate in particolare dalla Puglia. Il sisma è stato registrato alle 4.06 ora italiana con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 280 chilometri di distanza in linea d'aria da Bari. E adesso le altre notizie del TgLis. Ammonta a 900 mila euro il valore complessivo di beni e disponibilità finanziarie confiscati dalla direzione investigativa antimafia ad un imprenditore 73enne di Terlizzi da tempo residente a Genova. Gli investigatori hanno accertato che l'uomo faceva a volte accordi anche con esponenti della criminalità organizzata. L'imprenditore è titolare di numerose società attive nel settore della lavorazione e della vendita di ferro e rottami spesso intestate a prestanome. L'ammontare dei beni sequestrati comprende due appartamenti di lusso a Genova e via Reggio, un'autovettura e diversi rapporti finanziari. Serviranno 30 giorni per ripristinare il tratto ferroviario compreso tra Benevento e Ariano Irpino sulla linea Foggia-Caserta che da martedì pomeriggio è interrotta a causa di un movimento franoso. Lo rende noto rete ferroviaria italiana spiegando che i tecnici hanno riscontrato dei movimenti franosi che interessano la Galleria Starza e che hanno causato un dissesto per circa 250 metri nel tratto Ariano-Irpino-Montecalvo. Dopo l'individuazione di focolai della nuova variante della Xilella Trigiano, il servizio fitosanitario della Regione Puglia e l'ARIF stanno svolgendo operazioni di monitoraggio per verificare l'eventuale presenza della Xilella nel territorio della zona Cuscinetto che comprende anche parte del Comune di Bari. Il monitoraggio viene eseguito da ispettori muniti di tesserino e pettorina di riconoscimento. Le operazioni, dicono dal Comune di Bari, non comportano alcuna azione invasiva se non l'ingresso negli appezzamenti e il prelievo di campioni vegetali. Si invitano pertanto i proprietari a garantire l'accesso negli appezzamenti agricoli. La Procura di Bari ha chiesto l'assoluzione dell'ex arbitro di calcio Gianluca Paparesta accusato di bancarotta fraudolenta in merito al fallimento della FC Bari Calcio 1908 dichiarato a gennaio del 2019 di cui è stato presidente e amministratore unico. Gli inquirenti in particolare contestavano a Paparesta il mancato pagamento di imposte e tributi per un milione e mezzo di euro e l'aver indicato nel bilancio del 30 giugno 2015 un patrimonio netto di oltre 500 mila euro superiore a quello effettivo. Paparesta ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. Due piccoli robot si occuperanno di digitalizzare e classificare i campioni ematici raccolti dal centro screening neonatale dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. è in corso la programmazione che andrà a completare la dotazione tecnologica del laboratorio di patologia clinica per effettuare lo screening super esteso di 61 malattie metaboliche e genetiche. Nasce a Bari, Puglia, Women AI, il primo bootcamp completamente al femminile per avvicinare le donne all'intelligenza artificiale. Dal 22 al 24 marzo nel padiglione della regione Puglia, nella fiera del Levante, le partecipanti potranno imparare a sfruttare al massimo le intelligenze artificiali generative come ChatGPT. Le partecipanti potranno apprendere nozioni di base e applicarle a progetti che verranno premiati alla fine dell'evento lavorando in team seguite da professionisti esperti. Le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. 20 misure cautelari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Cerignola per una presunta truffa da 5 milioni di euro legata all'assunzione fittizia di centinaia di falsi braccianti agricoli e al loro ingresso in Italia per motivi di lavoro. 11 indagati sono finiti in carcere, 4 ai domiciliari, sono imprenditori, professionisti e funzionari pubblici accusati a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, favoreggiamento all'immigrazione clandestina, riciclaggio falso in atto pubblico, contraffazione di sigilli. Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri sera in un casolare abbandonato nelle campagne di Ascoli Satriano in provincia di Foggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione al 112. A quanto si apprende sarà eseguita l'autopsia per risalire alle cause del decesso. La procura di Brimisi ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo al momento contro i gnoti dopo l'incidente mortale sul lavoro in cui ha perso la vita Gianfranco Conte, l'operaio di 37 anni morto all'interno dello stabilimento della Gindal nella zona industriale di Brindisi. Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente. Il dipendente viveva con la moglie e le due figlie a Tuturano, una frazione di Brindisi. E con il TG List è tutto. Grazie per averci seguito. Grazie. 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 Grazie.